Bene, io vi dico non oggi, due giorni prima del voto, ma da che sono entrato in quell'ufficio mi sono impegnato con i tecnici per rimettere la Basilicata al centro e nei prossimi mesi investiremo 3 miliardi per sistemare le strade in Basilicata e almeno il doppio per le ferrovie. E ci rivediamo mese per mese per verificare la Tito Brienza, la Salerno Potenza Bari, la Matera Ferrandina, tutto quello che stiamo mettendo a terra, perché a sinistra si ricordano della Basilicata la settimana delle elezioni, peccato che quando sono stati al governo e ci sono stati quasi sempre loro, sia in regione che a Roma, della Basilicata nessuno si ricordava.